No, no, aiutami! Cosa hai fatto? No! No! Dimmi! No! Ma io che ho fatto... No! Io mi guardo intorno e vedo maiali poveri... No, questi cosi sono maiali più fortunati! Vi stai spingendo? Sì! Vai! Manca pochissimo! Vai! Ci siamo! Vai, vai, vai! Scialla, zì! Verrai sacrificato in un burrone come al senso recento! Cioè non ha senso trasportare maiali da un'isola all'altra per poi sacrificarli a Satana! Vai, passa! Perché la cosa più bella è proprio questa, nel senso, capisci? Il bello della serie è questo! Spingi! Dai, ma perché sei così lento? Posso saperlo? L'hai spinto indietro! Non è vero! Spingi, dai! Avanti! Renditi un po' utile alla società! Dai, io mi lancio di sotto! No, no, no! Spinsalo! Ti andrà bene! Aiuto! Apri! Sta diventando l'oltre! Arrivederci! Muoviti, muoviti! No, no! Si scende! E non lo fa... E volevo metterlo giù! Ma cosa non puoi metterlo giù? T'ho man... Ah, non posso metterlo giù? Ah, ok! Eh, no! Tua mamma si mangia il poco... Il poco? Ci siamo quasi! Ci siamo quasi! Spingi! Ah, ragazzi, con questo tramonto... La vedete l'isola? Sì, sì, la vedo! Ok! The Island of Junara! Non è vero questa seria! No, non c'entra niente! No! No! Cosa? Come cosa? Oh, cazzo! No! Oh, cazzo! No! Mi sono sacrificato per voi! No, no, no! No, no! Cosa faccio? Allora, adesso tu non puoi morire, ok? Sì, sì, non li butto giù, però! Oh, mio Dio! Li sta spingendo! No, no! Anima, devi salvarli! Ok? Vai, vai! Sei l'unica salvezza dei nostri maiali! Capisci? Capisci questa cosa? Capisci cosa sia importante per loro? Sei più di un padre! Tu sei il loro Dio! Non a caso esiste! Ok, non si può dire, è stato... Vai, vai! Lo salvo! Figlio di Troia! Mori! No, no! No, un ragno! Oh, cazzo! C'ho anche un ragno! C'ho anche un ragno! No! Non stai fermo! La brutta! Oddio! Sto arrivando anche il scheletro! No, no, no! Allora, non devi farmi morire! Lo apisci? Capisci questa cosa? Sì, vieni! 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 Prendi la spada! Prendi un cazzo duro! Non è la spada! Prendi un dildo! Ci sono i ragni da una parte di scheletri con l'arco dall'altra! Allora, anima, ascoltami! Io ho delle uova, se vuoi! Al massimo! Non ho nient'altro! È diventata notte! Quindi i mostri nascano su questa cazzo di ferrovia! Sai cosa vuol dire? Che se non porti mai alla destinazione, entro la fine della notte si trasformeranno in zombie anche loro! Ma veramente? Eh, qui senti c'è l'erentola? Che pensi che la zucca fosse una cosa... Un'invenzione? Eh? Che pensi sia tutto... Ma perché questo gioco è così malato e vi piace a voi? È tutto vero! Cioè, la zucca di cino dentro e la scarpetta... Penso sia finto? Oh my God! 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 Scusa! Non so... Ma allora, aspetta, una cosa... Ho una cosa alla MacGyver! Cioè, se io... Dimmi MacGyver! Cioè, se io spingo il maiale sulla ferrovia e c'è un ragno... Il ragno si sposta o deragliare il maiale? Ci dovrebbe bloccare, in teoria, mi sa, purtroppo... Ah, eh... Allora, io ho appena combattuto un ragno... E uno scheletro tirando di nuovo addosso... Quanto sono MacGyver da 1 a 14? Eh? Tu sei step, quindi non hai bisogno di essere MacGyver... Perché... Cazzo sta arrivando! Allora... No, no, allora... Eh... Ti spacco il cazzo! Ah, ma sono fottuto! Sono fottuto totalmente... Vai, vai... Ti picco, cazzo, io sono Rocky Balboa di Minecraft... Ti spezzo il culo! A merda, mori! Ok, 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 sto facendo una cosa assolutamente piena... No, 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 no! Sì, è volato giù, è volato giù, è volato giù, è volato giù... Oddio! Sono tre contro uno, infami di merda! Oh mio Dio, qua... Li sto inculando, li sto inculando, 1v4, ragazzi, 1v4, get rekt! Oh, oh, oh! No, no, scusate... Non è scherzo, non tornare in... No, 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 sto difendendo, tu non puoi capire... Sono gli Spartani contro Cersei! Cersei Cosmi... Ti sto prendendo incontro... Dai, se lo picchio con la rotaia, lo picchio! Oh mio Dio, qua... Cazzo, c'è una fottuta rotaia in mano, e non avanzate! Non è... Non è rotaia, non ho po' razzarla, tipo... Sto arrivando, anima, sto arrivando... Merda! Oh, sì! Oddio, c'era... Oddio, c'era una scheletra vestito di giallo, tipo, troppo gay... È volato giù di sotto, tipo... Ho paura a lanciarmi, ho paura, anima! No, no, ascoltami, ascoltami, io sono la principessa di Super Mario, tu sei Super Mario, supera... Sto arrivando! Tutte le insidie... Sto arrivando! Oh cazzo, c'è un creeper, oh cazzo, c'è un creeper vicino ai maiali! Non ti avvicinare troppo, no, non ti avvicinare troppo! Sto arrivando, cazzo! Oh no! Ah, mi hanno ripreso! No! Allora, devo fare... Devo fare una cosa import... Devo fare una cosa importante, una cosa che solo io posso fare, allora, guarda... Guarda, guarda... No! 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 Cosa hai fatto? No, no, aiutami! Cosa hai fatto? No! No! Aspetta, aspetta, ci possiamo ancora salvare, c'è un creeper esattamente sopra i maiali, ma ha ucciso uno scheletro cercando di difendere i maiali, allora, tutto è possibile, tutto è possibile... No, c'è una cosa utile al mondo, fai darmi lì sotto... Fidati, guardami negli occhi... Dove sei? Guardami negli occhi... Figlio, i maiali sono vivi, i maiali sono vivi... Allora, io sinceramente me lo auguro per la tua vita, dormi! Allora, eh... Crafterò materiali di sopravvivenza improvvisate... Come osi? Come osi mancarmi di rispetto in questo modo? Ma il cane è una cosa... Il cane è l'amico migliore dell'uomo! Eh? L'amico migliore dell'uomo? Eh? Eh? L'amico migliore dell'uomo! Che cazzo... No, no, dobbiamo salvare i maiali! Maniaco! Acqua, vieni a seguire questo! Acqua! Su, cazzo... Dobbiamo salvare i maiali! Non lo vorrò più! No, no, no... Dove sei? Maniaco! Dove sei? Pesso di merda! Dove sei? No, no! Passa! Passa! Ok? Aspetta, mi sto cagando addosso! Ok? Ma smetti? Basta, basta! Ok? No! No! Ora aspetta, ora aspetta ad aprirti, ok? Stai, stai! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Ho fatto 10 pantaloni! Ho usato tutto il ferro e non avevamo buttato i pantaloni! Ho sbagliato! Perché sta cosa? Hai fatto i leggings su un ferro! Sei un canzo di gay! Ok! Ma che cosa... L'hanno fatto sui brutto! Premi F5 due volte! Tuttavia, ti sei brutto! Rambamia! Mi faccio di rimanere! Sono murato di rinocchio! No, ma io non ho la spada! Allora, non mi interessa un cavolo! Io ora prendo il poco grano che c'è rimasto e me lo mangio io, intanto, per cominciare! Ti vuole! Non ti meriti niente e niente! Cioè, è di là, con i porci, dove di solo tenerli... Non dico neanche compagnia, tenerli vivi! Aspetta, io ho preso l'oro, così posso contrattare! Cosa contratti? Con chi? Con i mostri! Tutti vogliono l'oro! Tutti vogliono! Tutti vogliono! Tutti vogliono! Tutti vogliono! Grazie per la visione